La vittoria di Rimini con la Pro Livorno inganna in parte, due gol su rigore, un pareggio clamoroso sfiorato nel finale sempre dagli 11 metri che è un gentile regalo concesso dalla difesa biancorossa. Il Rimini ha voglia di trovare gioco ai punti mentre la Pro Livorno ha voglia di continuare a stupire. L'inizio vede Ambrosini innescare Vutai ma l'attaccante spreca calciando addosso all'estremo di casa. La risposta della Pro Livorno è affidata 60 secondi dopo a questa incursione di Filippi, non sfruttata sotto misura dai compagni di squadra. L'asse Samboviti si procura questo penalty. Dal dischetto Vutai non tradisce l'appuntamento con il gol per il vantaggio biancorosso. L'attaccante si ripete ancora una volta dopo l'ottima prestazione con il corticella. Le azioni stelline della Pro Livorno con l'asse Rossi-Granchio, Scotti passa sogni tranquilli. Dall'altra parte Valeriani mette al centro per il colpo di testi Vutai che non reca problemi al portiere di casa. La Pro Livorno giunge al pareggio poco dopo. Rossi chiama la respinta Scotti sulla traiettoria Camerlinghi e risponde presente infilando l'estremo ospite. L'ultima azione dei primi 45 minuti di gioco è affidata alla punizia di Ambrosini che c'entra la traversa. Nella ripresa Scotti è in vena di regali natalizi. Rossi non ne approfitta. Si vede Rimini con Vutai. Prima della mezz'ora Vutai lanciata a rete e viene stesa da Brungo. Per l'arbitro non ci sono dubbi. Si tratta di penalty. Dagli 11 metri lo stesso attaccante sigla la sua personale doppietta. L'attaccante galvanizzato entra in area di rigore ma si lascia ribattere il possibile tris da Brungo. Sempre lui a 36esimo andrebbe anche in gol ma la rete viene annullata per un fallo commesso dal partner offensivo Casolla. A due dal termine fallemi di testa non in quadri bersaglio. L'89esimo Lugliano stende così Rossi. Calcio di rigore ingenuo. Dal dischetto lo stesso Rossi c'entra un palo clamoroso che sa di beffa per i suoi. Tre punti invece che permettono a Rimini di sognare piani alti di classifica per un Natale sereno da regalare ai propri supporters.